Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti nocciola e marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, nocciole, zucchero, lievito per dolci, vanillina, olio di semi d'arachidi e un uovo. E per la farcia, cranella di nocciole e marmellata. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole. Le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero. Le facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le nocciole tritate. La farina. L'olio. La vanillina. Il lievito. E l'uovo. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso formeremo i nostri biscotti. Prendere un pezzettino d'impasto, più o meno grande quanto una noce, e formare una pallina. Passarle nella granella di nocciole. Con l'aiuto di un bastoncino, formiamo un foro al centro. Posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguire così per tutto il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciare raffreddare completamente prima di rimuoverli dalla teglia. Riempire il foro con marmellata, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Biscotti, nocciole e marmellata. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!